Erano nascosti nel doppio fondo di questo camper appena sbarcati a Brindisi dalla motonave Ionian Queen proveniente dalla Grecia. Così dieci clandestini, nove irachene e un siriano, stavano cercando di introdursi in modo illegale in Italia ma sono stati individuati dai militari della Guardia di Finanza in collaborazione con i funzionari dell'ufficio doganale Brindisino. Per estrarre i clandestini dal vano che era stato ricavato sotto il pianale del camper sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto anche tagliare alcune parti di lamiera per facilitare le operazioni di soccorso. A causa delle precarie condizioni di salute di alcuni clandestini fortemente provati dal caldo e debilitati è stato avvertito il personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure direttamente sul posto prima di trasportare dieci immigrati in ospedale per ulteriori accertamenti. Il camper è stato sequestrato e i due responsabili del traffico di clandestini sono stati arrestati. Si tratta di un uomo Collatos Costantinos di nazionalità francese e passaporto greco e una donna Alina Gianna di nazionalità greca.